Lavora, oi, alla riscossa! C'è qualcuno che ha già deciso, che vuol toglierti il sorriso, cancellare la tua libertà. Ti vorrà dentro al sistema, produci, compra e poi consuma, niente persone ma solo numeri. Ma tu sei sempre te stesso. Lavora, progetto, vista, senza un grande partito comunista. Abbiamo trasformato la formazione in un modo per sottomettere le nuove generazioni alla logica di impresa. C'è qualcuno che ha già visto, che vuol toglierti il sorriso, che vuol toglierti il sorriso, che vuol toglierti il sorriso. E' un bellissimo partito comunista, che vuol toglierti il sorriso, che vuol toglierti il sorriso. E' un bellissimo partito comunista, che vuol toglierti il sorriso, che vuol toglierti il sorriso. E' un bellissimo partito comunista, che vuol toglierti il sorriso, che vuol toglierti il sorriso. E' un bellissimo partito comunista, che vuol toglierti il sorriso, che vuol toglierti il sorriso. E' un bellissimo partito comunista, che vuol toglierti il sorriso, che vuol toglierti il sorriso. E' un bellissimo partito comunista, che vuol toglierti il sorriso, che vuol toglierti il sorriso. E' un bellissimo partito comunista, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi dobbiamo andare in pensione a 70 anni perché dicono che non ci sono i soldi e alle banche hanno dato 20 miliardi per salvarsi dalla crisi. Grazie a tutti. Noi diciamo basta quindi all'Europa, diciamo basta alla Nato, diciamo che è giunto il momento di rimettere al centro la persona perché per noi quello che conta è la persona. Noi ragioniamo guardando a noi, non all'io, come invece vorrebbero far passare anche nella cultura di questo paese. È giunto il momento, compagni e compagni, di voltare pagina. Noi prendiamo questa sera un grande impegno, quello di fare in modo tutti quanti assieme che questa politica, una politica realmente alternativa, sia fermi contro tutti e contro tutti. Noi non ci rassegniamo.